Allo spazio app al circolo Arci Colombofili la presentazione del bilancio di attività e le anticipazioni della stagione 2015 dell'Arci Comitato di Parma, evento in concomitanza con l'avvio del nuovo tesseramento per il 2015. Illustrati e risultati conseguiti nel corso dell'anno un report positivo in termini di adesioni e di attività dai circoli giovanili a quelli tradizionali alle nuove convenzioni locali e nazionali con le agevolazioni riservate ai soci Arci di Parma e poi ancora gli spettacoli musicali e di intrattenimento. Il bilancio è stato illustrato dal presidente dell'Arci Massimo Iotti. Supereremo la soglia dei 40.000 soci che significa un radicamento importantissimo in una provincia come Parma e per noi è una grande soddisfazione pensare anche che 18.000 di questi sono tutti giovani che frequentano i circoli giovanili per eventi musicali ma anche altro. Ne approfittiamo per annunciare che noi abbiamo ormai definito con l'azienda USL di Parma un protocollo che riguarderà sia soprattutto la fascia dell'adolescenza ma non solo, ma in particolare su giovani e adolescenza noi intendiamo portare avanti dei progetti che siano proprio la messa a disposizione delle nostre sedi e di questa grande platea giovanile per cominciare a parlare di problematiche in modo innovativo e intelligente per cercare di avere quel rapporto che sempre più si dice viene a mancare. Ecco l'Arci è davvero la grande occasione perché 18.000 giovani in questa provincia sono un patrimonio, un osservatorio che davvero va messo a sistema.